Buonasera amici, bentrovati. Come avevo promesso oggi leggeremo insieme, per la prima volta insieme, un passo interamente in greco. Per questo esempio di lettura io ho scelto il Vangelo secondo Giovanni. Leggeremo soltanto i primi dieci, undici versetti del prologo di San Giovanni. Ho scelto questo brano perché è un brano notissimo, famosissimo, quello che comincia con il principio era il verbo, ecco, non so se penso sia noto a tutti. E' un brano molto significativo, pregnante per i credenti e al tempo stesso un brano di alto valore letterario per tutti, quindi credenti e non. Ricordo che il Vangelo di Giovanni è considerato un capolavoro della letteratura greca, proprio per lo stile usato, per le immagini e quindi per il tipo di narrazione. Quindi è una lettura che fa parte proprio di tutta la nostra tradizione occidentale. Ho scelto pertanto questo, anche se non si tratta, precisiamolo, di un brano di greco dell'età classica. Non dico questo a livello di qualità, perché, ripeto, detto, siamo di fronte a un'opera di grande valore letterario, oltre che di valore religioso per i credenti. Dico semplicemente che sia lo stile è un po' diverso, perché è uno stile di un greco tardo, sia la pronuncia del greco all'epoca di Giovanni era già quella della koine, ovvero della lingua comune ellenistica, e dunque non si pronunciava più il greco nella maniera in cui lo leggevano i classici, i greci del V secolo a.C., ovvero prolungando tutte le vocali lunghe, eccetera. Tuttavia io vi fornirò ugualmente le due letture, la lettura analitica, che così abbiamo definito nella volta scorsa, nella scorsa lezione, sia la lettura sintetica, quella comune, scolastica. Voi troverete quella sintetica molto più espressiva, perché più vicina al nostro modo di sentire, e quindi la troverete forse più partecipata. Quella invece analitica vi sembrerà forse solo una cantilena, ma è quella che più si avvicina alla lettura del greco classico, che nei secoli poi è andata perduta. Io comincerei con leggere appunto questo testo, insieme a voi, e farò le due letture, per quello che mi riesce, e poi proveremo a rivederlo un po' facendo un abbozzo di traduzione, che sarà comunque utile per capire, per comprendere questo testo. Bene, cominciamo subito. Enarche en ologos, cae ologos en proston Theon, cae Theos en ologos. Jutos en enarche proston Theon, panta di autue geneto, cae corris autue geneto, Ude en ogegonen. En auto zoe en, Cai e zoe en tofos ton antropon. Cai tofos en te scotia fainei, cae scotia auto ucatelaben. E geneto antropos, apest almenos paratheu, onoma auto Johannes. Chutos elten eis martyrian, hina martyrese per itufotos, inapantes pisteus osin di autù. Uc en ecei nosto fos, alhina martyrese per itufotos. En tofos to alethinon, hofotizei panta antropon, er komenon eis ton cosmos. Ento cosmo hen, cae o cosmos di autue geneto, cae o cosmos auton uc egno. Eista idia elten, cae oi idioi auton u parelabon. Bene, allora, vi è piaciuta la lettura? Adesso vi stupirà ancora di più la prossima lettura che vado a fare dello stesso brano. Perché leggerò, non posso dire esattamente, ma in modo molto simile a quella che era l'antica lettura del greco, soffermandomi sulle vocali lunghe e prolungandole. L'effetto sarà un effetto musicale. Ecco, probabilmente l'effetto acustico non sarà il massimo, come ho già detto, però ci darà proprio un'idea di quello che era la lingua. Perché per il greco la lingua era una sorta di armonia musicale, tanto che la lingua greca era quello che distingueva i greci dagli altri, che erano i barbari. I barbari erano chiamati appunto barbaroi, perché barbaros vuol dire quando parla fa bar, 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 dalla deriva barbaros. Ecco, anche se la Grecia era suddivisa in tante città-stato, in tante polis, il greco riconosceva la sua identità culturale proprio nella lingua. Quindi quando sentiva qualcuno parlare una lingua diversa, e perché era diversa? Perché non aveva quella musicalità, quella cadenza, ecco che lo riconosceva come un non greco, quindi un barbaros. Bene, andiamo a sentire questa registrazione che ci arriva attraverso la macchina del tempo da uno dei miei viaggi temporali nell'antica Grecia. Enarchè, che è, in chologos, a i chologos, e, in prosonteon, ca i teose, e, in chologos, coutos, e, menarchè, prosonteon, pan, ta di chautu, e ghe, e tocca, di choriz, chautu, e ghe, e ghe, unhantropon, ai, to få senta, escotia, ai, a, nei, c'è, escotia, lhautò, fujatè, lhaw���, e gheneto antropo, sapest al me, NOS PARATEU ONOMA CHAUTO CHIOANNES CHUTOS EL TENEIS MARTYRI ANCHI NA MARTYRE SEH PERITU VOTOS GINA PANTESISTE USO SIN DICHAUTU UKE NECHE INOSO FOX SALCHI NA MARTYRE SEH PERITU VOTOS ENTO FOXO ALLE ETINON NCHO FOXO TIZEI PANTA ANTROPO MERCHO MENON EISTO MON COSMON ENTO COSMO IEN CAI HOCOSMOS DICHAUTU EGENETO CAI HOCOSMOS CHAUTONNU CREGNO EISTA LIDIA HEL PENCAICO I DIOI CAUTO NU PARÈ LA BON Spero che non siate scoppiati a ridere per la pronuncia diciamo piuttosto insolita e che come vi ho detto è impossibile fare sempre è impossibile leggere il greco così noi lo leggeremo tranne che in alcuni brevi tratti per far capire il suono di una singola parola o per un dettato per cui comunque conviene conoscere quest'altro tipo di pronuncia lo leggeremo sempre quando leggeremo un testo completo nel primo modo quindi con la pronuncia scolastica più simile alla nostra è la nostra capacità di ascolto è la nostra capacità di cogliere l'espressione e quindi il senso di un testo ho fatto questa lezione solo per mostrarvi la... degli esempi di lettura in greco però per non lasciarvi così quindi andiamo a tradurre insieme il brano che abbiamo appena letto vediamo esattamente come si può tradurre un esempio di traduzione possibile En archè proprio in principio archè è proprio l'origine, il principio, eccetera quindi in principio En era ho logos il logos in principio era il logos in latino questa parola viene tradotta nella vulgata di San Girolamo con verbum appunto da cui la nota traduzione in principio era il verbo in realtà è molto difficile cogliere la profondità di questi termini tanto verbum in latino quanto logos che non c'entra niente con il nostro verbo come parte del discorso e questo lo diamo per scontato io in una traduzione visto che logos come sapete come sapete logos può voler dire discorso il prologo pro-logos un discorso che viene prima una parte introduttiva logos vuol dire anche però parola era la parola e qui c'è tutto il tema teologico della parola di Dio del verbo che si fa carne ma logos vuol dire anche ragione vuol dire anche la mente lo potremmo anche tradurre lo spirito in accezione non greca ma cristiana uno spirito che è verbo che è parola che è discorso a questo punto io senza avere la presunzione di fare la traduzione migliore lascio la parola greca in principio era il logos e in questo logos ognuno vede ciò che vuole vedere kai kai significa e quindi iniziamo a vedere le congiunzioni che sono le prime cose che impareremo e ologos il verbo en vedete era prostontheon questo pros più accusativo indica normalmente un moto a luogo quindi una traduzione letterale classica dovrebbe essere era rivolto a Dio però pros può voler dire anche presso Dio ma è un presso con una sua diciamo accezione dinamica non a caso Salvatore Quasimodo lo traduce era in Dio proprio perché pros indica appunto questo avvicinamento ma anche un moto a luogo la traduzione classica diciamo canonica anche quella usata dalla chiesa il verbo era presso Dio quindi e il logos era verso Dio possiamo dire oppresso Dio Cai Theos En Ologos Cai è Dio Theos era il logos ecco nella traduzione più comune si dice è il verbo era Dio su questo su questa frase ci sono state ci sono versati fiumi di inchiostro per cui ci sono state dispute di atribe teologiche tra le varie confessioni per questo non voglio entrare nel merito non voglio dare adito a polemiche dico soltanto che En è un una copula verbo essere all'imperfetto era e poi abbiamo dai due lati Theos che vuol dire Dio è Ologos il logos il verbo quindi e il verbo era Dio e il verbo era divino e il logos era divino e Dio era il verbo queste sono le possibili traduzioni utos questo era ma questo in italiano può voler dire questo nel senso di ciò questa cosa invece no utos può essere usato anche come personale come pronome personale anche se è un dimostrativo quindi proprio costui era costui il logos costui il verbo utos da proprio l'idea della persona altrimenti avremmo trovato tutto in greco per dire ciò questo quindi io lo tradurrei costui era in principio presso Dio panta tutte le cose di autù attraverso lui e geneto ecco questo verbo gignomai si può a tanti significati essere nascere generare divenire accadere al passato ovvero in questo tempo che è l'auristo in particolare può spesso sostituire in tutto il verbo essere allora se io voglio usare il verbo essere io dirò tutte le cose attraverso lui furono ora tutte le cose furono attraverso lui che già per me come significato è molto pregnante però si può dire anche tutte le cose sono accadute attraverso lui tutte le cose sono state fatte tutto è stato fatto per mezzo di lui si suol tradurre se noi lasciamo una traduzione molto letterale non per questo meno bella tutte le cose attraverso lui tramite lui furono cioè si furono sono esistite ecco tutte le cose sono esistite attraverso lui e senza di lui quindi u de en va insieme perché significa non una cosa quindi niente che fu quindi nulla che sia stato è stato senza di lui e senza di lui non è esistito nulla che sia stato e senza di lui nulla fu fatto di ciò che è stato creato ma questa è una traduzione libera ci tengo a fare la traduzione letterale e nautò in lui zoè en ora enautò usa un altro pronome autò autos e non utos che avevamo al secondo verso riprende di autù e coris autù enautò autos è un pronome molto significativo perché significa proprio lui lui stesso in lui stesso proprio in lui era vita la vita zoè cai è la vita era tofos la luce tonantropol degli uomini quindi in lui era la vita o semplicemente in lui c'era vita ecco vedete che è una sfumatura leggermente diversa ma che mette quasi brividi nello stesso in lui stesso proprio in lui c'era vita e la vita qui mette l'articolo e zoè era la luce degli uomini cai è tofos la luce ente scotia fainei la luce brilla fainei si mostra si manifesta nella tenebra la traduzione vuole nelle tenebre questo è un singolare quindi è la luce nella tenebra si manifesta splende possiamo dire faino il tema fan che riprende l'idea del fanale eccetera del fanatico che si mostra e chi è fanatico ecco fan si mostra il fanale illumina quindi tutto ciò che brilla che si mostra è faino quindi fos fos foto fotovoltaico diciamo noi ad esempio ecco deriva da questo fos è proprio la luce e la luce brilla si mostra appare nella tenebra cai è la tenebra traduzione libera e le tenebre non la offuscarono e geneto ecco e geneto sempre digno mai il verbo che abbiamo detto prima e cioè c'era ci fu 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 antropos un uomo fu un uomo apestalmenos mandato parateu da dio quindi ci fu visse un uomo mandato da dio ci fu un uomo mandato da dio nome onoma onoma ricordate abbiamo visto onoma tongrammaton il nome delle lettere nella scorsa lezione onoma quindi questo termine dovreste già conoscerlo nome autò a lui joannes giovanni nome a lui giovanni possiamo dire si chiamava giovanni quindi ci fu un uomo mandato da dio si chiamava giovanni utos costui egli elten giunse eis marturian per testimonianza questo eis introduce sia il moto a luogo sia il può tradurre il complemento di fine quindi verso testimonianza per testimonianza se in testimonianza ina ora va a ampliare il significato di questo complemento di fine che diventa una finale per martirese per testimoniare affinché testimoniasse peritufotos riguardo alla luce affinché portasse testimonianza della luce ina affinché pantes tutti pisteus in affinché tutti credessero attraverso lui uken non era ekeinos questi quelli questi nel senso di egli la luce tofos ma per testimoniare circa la luce ma sottinteso venne per testimoniare della luce per essere testimone della luce en tofos to aletinon quindi era la luce quella vera che o fotizei illumina fos fotizei fotizei fotizzo illuminare che illumina panta panta antropon ogni uomo er ercomenon eston cosmon quindi ogni uomo ercomenon che viene nel mondo nel cosmo nell'universo ogni uomo che viene alla luce ogni uomo che viene alla vita quindi era la luce vera quella che illumina ogni uomo che viene nell'universo ento cosmo nel mondo era era nel mondo chi sempre il logos cai o cosmos è il mondo l'universo di autù tramite lui per mezzo di lui è geneto è stato è stato fatto esiste caiocosmos è il mondo non egno egno viene dal verbo gignosco conoscere non conobbe auton lui non lo conobbe e il mondo non lo conobbe possiamo dire non lo riconobbe traducono alcuni ta idia vuol dire le cose proprie quindi venne esta idia nella propria dimensione nella sua terra comunque la traduzione letterale nelle cose proprie nel suo venne cai oi idioi e i suoi non parelabon non lo presero non parelabon auton non presero lui non lo accolsero non lo ricevettero quindi venne come dire a casa sua nelle sue proprie cose a casa sua e i suoi non lo accolsero un brano grammaticalmente molto semplice ma semanticamente molto complesso sicuramente la mia non è stata una traduzione ma è stata un invito alla traduzione per chi volesse iniziare a tradurre Giovanni ma quello che a noi interessa ora non è cogliere non è dare una traduzione ottimale quanto cogliere un senso io avrei potuto benissimo leggervi una traduzione d'autore invece io ho fatto ho mostrato come il greco può dire tanto attraverso parole semplici cioè venne nelle sue cose venne nella sua terra venne a casa sua ecco con parole semplici logos logos la parola ma parola è anche discorso ma parola è anche ragione ecco c'è tutto un universo un cosmos dietro ogni singolo significato dietro ogni singolo significante significante è la parola c'è un universo di significati questo giusto per farvi iniziare ad assaporare la lingua greca bene questa lezione è terminata e non so scrivete quello che pensate che effetto vi ha fatto nei commenti e dalla prossima lezione torneremo alla fonetica perché dobbiamo concludere il discorso iniziato sugli accenti che non abbiamo poi terminato perché dobbiamo vedere alcune piccole regole da applicare per i vari tipi di accento acuto grave circonflesso eccetera poi tra qualche lezione inizieremo proprio a tuffarci nel vivo della traduzione non certo di Giovanni né tantomeno dei classici ma di singole piccole frasi ma non vi voglio anticipare nulla ricordate di mettere il like al video eventualmente sono molto graditi i commenti sia qui su youtube sia su facebook e a presto